Sono tre riprese, ma tre minuti ciascuna. Amico, sono sempre un corretto di Ponte Rombo. Ringraziamo la nostra numerina, Tiziana. Alla fine, Vesca, 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 Gio. Alla fine, come si Barrisminettale, che è possibile? Cassia, sangria! Sì, è stata riferita! È stata riferita! Non si arriva, non si arriva. Non si arriva. È stato riferito. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì.